Adesso vedremo come trasformare delle immagini in un file che abbia un minimo di leggibilità. Diciamo subito che questo è un modo primitivo di lavorare, perché in pratica stiamo utilizzando l'informatica al contrario. L'informatica è nata come scrivere un file, mettere delle informazioni e poi eventualmente, all'occorrenza, se ce ne fosse la necessità, uno in quell'occasione può stamparla. In questo modo stiamo lavorando al contrario, come ultimamente sto notando che sta lavorando l'utente medio, cioè uno scrive un documento a mano, poi gli fa una fotografia e poi successivamente questa fotografia va portata sul file, cioè proprio, non ho altre parole che definirlo, un modo primitivo. Però, siccome è qualcosa che si verifica sempre più spesso, vediamo almeno, visto che non possiamo eliminare il problema, vediamo almeno come fare per dare almeno un minimo di leggibilità a questi file. Allora, innanzitutto, qui abbiamo due file, due jpg, che sono evidentemente delle immagini che sono state scattate con un telefono. Vediamo un po' queste immagini a che cosa corrispondono. Immagine 1 è una verifica sotto sopra, immagine 2 è la stessa verifica, sempre sotto sopra. Diciamo che questa è la peggiore delle condizioni possibili. Due immagini, uno, che sono senza nome, due, che sono appunto, dicevo, sotto sopra, tre, sono state scattate ad un'altissima definizione, una è 3 mega, l'altra è 2 mega e 3, altissima definizione che è anche, tutto sommato, inutile per dei file di testo. Comunque, vediamo un po' come aggiustare questi file. Innanzitutto diamogli un ordine, perché scritti così non significa granché. Image 1 è la prima pagina, image con la parentesi è la seconda pagina, allora possiamo quantomeno dargli un nome significativo, cioè compito 01 e compito 02, che è già il primo passo, cioè dare dei nomi significativi a un file. Successivamente creiamo un documento Word, anche qui il nome importantissimo, verifica, mate. Adesso dobbiamo inserire queste immagini nel nostro file, però partiamo da compito 01, inserire un'immagine di questo tipo, poi a uno verrebbe il torcicollo per colleggerla. Poi c'è un altro problema, l'altro problema è che insieme al foglio si è stata fotografata un tavolo, una parte di un telefono, un computer, insomma tutta roba inutile, che non serve. Quindi la prima cosa da fare è andare a modificare questa immagine. Quindi apriamo con modifica, apriamo con paint, ecco vediamo quello che dicevo prima, è stata fotografata con una definizione eccessiva. Quindi la prima cosa andiamo a ridimensionarlo, andrebbe bene anche il 40%, in questo caso, forse ho esagerato un po', però può andare, 40%. Poi successivamente andiamo a ritagliare, ho cambiato lo zoom, ma l'immagine è la stessa, andiamo a ritagliare l'immagine, prendendo solo quello che ci serve, quindi strumento seleziona, la ritagliamo, ma è anche storta, questo è il peggio che ci poteva capitare, comunque c'è tutto, copia, nuovo file, non salvemo niente di quello precedente, incolla e abbiamo già, già è qualcosa, abbiamo eliminato tutto ciò che non serve. Il passaggio successivo è quello di metterla dritta, quindi in questo caso qui la ruotiamo a sinistra di 90 gradi, ed eccola qui, adesso già è meglio. Se vogliamo essere proprio un po' più precisi, possiamo tagliare quest'altra parte di marrone qui, vabbè, quell'altra ce la facciamo piacere. Ecco, così può andare, a questo punto la salviamo, salva con nome, andiamo dove l'avevo, il tutorial che l'avevo messo qua, anche qui diamogli un nome significativo, quelli erano compito, questa sarà verifica 01. ecco fatto, un procedimento analogo, eccola qui, volevo solo far notare come dai 3 MB, beh, si è passato a 2,054, per il semplice motivo che è stato trasformato in PNG, io andrei a modificarla ancora, nel salva con nome, magari stavolta abbiamo esagerato, il PNG non serve. Facciamo una JPG, JPEG, ecco qui. è importante questo aspetto, adesso si è ridotta a mezzo MB, perché troppo spesso viaggiano dei file inutilmente corposi, con una piccola cortezza abbiamo ridotto questo file da 3 MB a mezzo MB, cioè l'abbiamo ridotto di 6 volte, quella che è la sua grandezza originaria. Analogamente andiamo ad effettuare la modifica per il secondo file. A questo punto qua possiamo salvare con nome. Abbiamo visto che PNG è un'immagine troppo pesante, la salviamo come JPG, la chiameremo verifica 02, ok, usciamo e siamo ancora una volta sul mezzo MB, 510, 504, quindi siamo passati dai 5 MB e 4 circa a 1 MB, con una riduzione di, abbiamo ridotto dell'80%. Adesso che abbiamo questi due file pronti, basta aprire il nostro documento Word, inserisci, inseriamo l'immagine salvata, cioè nella verifica 01, ed eccola qui. diamo un invio, inserisci ancora immagine, verifica 02, quasi rende importante il nome che abbiamo dato all'immagine, quindi non stiamo lì a perdere tempo a cercare di capire qual è. Ed ecco qui, questo punto salviamo, e quindi abbiamo già dato un senso al nostro documento, manca l'ultimo tocco per renderlo oltre che leggibile, anche magari fare in modo che l'insegnante lo possa correggere. Cioè, andiamo in file, esporta, creiamo un bel PDF, siamo sempre nella cartella, gli diamo, beh, verifica mate va più che bene, chiudiamo questa parte qui, pubblica, ecco qui, controlliamo, sta lavorando, controlliamo che abbia, ecco qua. Adesso possiamo anche chiudere questo, aprire il nostro file che, guardate, da 1 MB si è ridotto ancora, mezzo MB, 430 KB, cioè in sostanza abbiamo diminuito più di 10 volte questo file. questo file, aprendolo, eccolo qua. È un file che, insomma, è primitivo lo stesso, perché adesso è diventato da Homo sapiens, magari a Homo sapiens, a File sapiens, a File sapiens sapiens, ma già ha un suo senso, perché se l'insegnante è qui, andiamo sul commento, sceglia la bella, la sua bella matitina, uno spessore, beh, magari uno può anche, anzi, mettiamo uno spessore 2, diamogli anche un po' una grandezza, quindi questo può anche essere, evidentemente, corretto, tipo, che ne so, 53, questa è fatta bene, questa qui è un errore, e così via. E quindi alla fine si rende un file su cui si possono mettere delle annotazioni. Chiudiamo tutto, a questo punto qua, salviamo, riscriviamo, lo riscriviamo, è inutile che ne creiamo un altro, adesso se noi andiamo a riaprire il file, lo troveremo già con le nostre annotazioni, che poi si può continuare a correggere. Questo è il minimo, per rendere quantomeno accettabile quella coppia di fotografie fatte con il cellulare.